Il matrimonio con Loredana Leciso, la scorsa estate, sembrava una certezza. Albano era tornato tra le braccia dell'ex compagna, madre dei suoi due figli Yasmin e Bido, durante il lockdown primaverile e stavolta appariva davvero propenso a sugellare la reunion sentimentale con i fiori d'arancio. A settembre il cantante pugliese ha invece annunciato che non ci sarebbe stato nessun matrimonio. Insomma, per ora, l'unica signora Carri si resta Romina che è stata sposata con lui dal 1970 al 1996, anche se il divorzio ufficiale è arrivato solo nel 2012. Visto che le nozze tra me e Albano sono state religiose, per la chiesa noi due siamo ancora sposati. Si potrebbero annullare ricorrendo alla Sacra Rota, ma nessuno le vuole annullare ha spiegato Tempo Falla Power. Se in futuro l'artista di Cellino San Marco deciderà di legalizzare il rapporto con l'Aleciso potrà comunque farlo solo con rito civile. Su Romina ha, invece, affermato, siamo come fratello e sorella, sul palco abbiamo una bellissima intesa. Insomma il legame di amicizia e affetto tra i due ex coniugi oggi è più forte che mai. Sono acqua passata le incomprensioni che per anni li hanno tenuti distanti.La Power ha vissuto negli Stati Uniti, suo paese d'origine, dopo la separazione e per svariati anni li è tornata in Italia pochissimo. La distanza, anche geografica, era davvero difficile da colmare. Adesso, invece, Romina sembra aver fatto pace con l'Italia e ha voglia di rimanere qui a lungo. L'unico dispiacere con cui ha dovuto fare i conti ad inizio 2021 è stato l'addio tra Iari e la fidanzata Tea Crudi che, dopo pochi mesi dall'inizio della loro relazione, hanno preso strade diverse. Resterò sempre molto legata a Romina ha detto, però, Tea che con la Power aveva moltissime cose in comune. Evidentemente non era destino.Per fortuna ci sono gli adorati nipotini Kei e Cassia a farle tornare il sorriso. L'artista americana non vede spesso i due bambini, figli di Christelle, perché vivono con i genitori a Zagabria, ma appena può correre in Croazia. Ad Albano la lontananza dai nipoti pesa parecchio. Sono diventato campione di videochiamate, ma non è come averli qui ha ammesso il cantante. Almeno nel ruolo di nonni Carisi e la Power resteranno uniti per sempre. Ma sono ancora tanti i fan che sperano in una riconciliazione e non si arrendono. D'altronde quella di Albano e Romina è stata davvero una favola in piena regola. Lei, figlia degli attori americani Linda Christian e Tyrone Power, è arrivata giovanissima in Italia e ha recitato in qualche film. Proprio sul set della pellicola Nel Sole ha conosciuto il cantante. Lui, figlio di contadini pugliesi, ha preso in mano con forza e determinazione la sua vita migrando a Milano in cerca di fortuna. Ho fatto tutti i lavori, dal cameriere al lavapiatti, prima di raggiungere il successo ha ricordato. Mentre giravano nel sole si sono innamorati perdutamente e hanno deciso di intrecciare anche le rispettive carriere cantando in giro per il mondo. Il matrimonio celebrato nel luglio del 1970 a Cellino San Marco è uno dei momenti più mediatici di sempre, con la gente che attogliava il sagrato della chiesa urlandosi al posto di Romina quando è giunto il momento delle promesse nuziali. Poi sono arrivati Ilenia, Iari, Christie e le Romina GR. Tutto è proceduto nel migliore dei modi fino alla tragica scomparsa di Ilenia a New Orleans. Da quel momento qualcosa tra Carrisi e la Power si è sgretolato irrimediabilmente. Rivedendoli insieme, nel 2013, durante il concerto in Russia che ne ha segnato il ricongiungimento artistico, i romantici speravano nel lieto fine. Non c'è stato, ma Romina rimane l'unica moglie di Albano. Non c'è stato, ma Romina rimane l'unica. Non c'è stato, ma loi di Naro. Grazie.